Nuove snapshot sperimentali di Minecraft, nuovi mondi, nuovi biomi, è una modifica enorme per quanto riguarda i mob, cose che essendo sperimentali non potresti vedere più. Iniziamo dalla distribuzione dei materiali. Il carbone ora sopra il livello 0 sarà leggermente più raro. Sì, il mondo in Minecraft adesso può andare sotto il livello 0, è stata aggiunta la Deep Slate e la Bedrock la troveremo alla Y-64. Possiamo costruire fino a 319 blocchi di altezza, il che significa che i limiti sono aumentati del 50%. La generazione del mondo sotterraneo è completamente cambiata, molti più diamanti ma sono anche più nascosti. Ci sono caves a formaggio, spaghetti e noodles e te lo giuro questi sono i nuovi nomi che Microsoft ha dato alle nuove caverne. Ci saranno nuovi biomi come le alte vette, le cime nevate, i boschetti e i prati. Con questo verrà anche una varietà di altezza, il che significa meno FPS per ora, magari questa cosa migliorerà con le nuove versioni e quindi un PC più caldo, avremo un termosifone in stanza praticamente. Lo spawn dei mob infine è stato modificato perché se prima potevano spawnare quando il livello di luce era 7 o minore, adesso spawnano solo con 0 di luce, quindi solo in zone dove c'è il buio completo. Il che significa meno torce richieste e il range delle torce è aumentato a 14 blocchi. Questo aiuterà sicuramente per rendere le aree più sicure con meno torce. Iscriviti per altri video e seguimi su Twitch. Iscriviti per altri video.